L'Orella Cuccarini ha postato sui social alcuni scatti a un mese dalla finale di Amici Il programma ha permesso alla professoressa di mettere in luce molteplici potenzialità Grande successo per le sue esibizioni al serale insieme al collega Emanuele Lo Il successo di Amici è come sempre irrefrenabile. Ogni anno il programma offre la possibilità a tantissimi allievi di poter studiare con i professionisti del settore per perfezionare il proprio talento I professori si impegnano al massimo per riuscire a portare i propri ragazzi, scelti nel corso delle varie puntate, fino all'ultima puntata Assistere alla vittoria di uno dei propri, è di sicuro una soddisfazione immensa A gioire di questo nell'edizione da poco terminata, è stata L'Orella Cuccarini Quest'ultima è da anni ormai la preferita dai telespettatori, un approccio nei confronti dei ragazzi molto dolce e delicato L'Orella spicca per la sua grande empatia, e la capacità d'ascolto nei confronti dei suoi giovani Quest'anno a trionfare è stata Sara Toscano, la cantante scelta dalla Cuccarini a inizio programma L'Orella Cuccarini posta alcuni scatti dopo Amici. Con lei il collega più amato Dopo la fine del programma i ragazzi stanno pian piano riorganizzando la loro vita Amici è un talent molto seguito e per questo, tutti coloro che partecipano e riescono a conquistare i telespettatori, si ritrovano dopo in una vita completamente stravolta I professori si concedono, dopo mesi di programma, qualche mese di relax Ma L'Orella ci sarà nella prossima edizione? La professoressa ha confermato attraverso alcune storie Instagram la sua presenza A preoccupare i fan però è un'altra cosa, ci sarà Emanuello? Il professore di ballo, insieme a L'Orella, ha conquistato milioni di telespettatori I due hanno fatto squadra già lo scorso anno, e in questa edizione hanno confermato complicità e grande affiatamento Grazie ai vari guanti di sfida che hanno visto coinvolti i professori, Emanuello e L'Orella si sono esibiti in coreografie strepitose In tanti hanno addirittura pensato che tra i due ci potesse essere qualcosa di più di una semplice stima professionale Una grande amicizia è quanto confermato, i fan ad oggi chiedono però una sola cosa, e cioè la conferma di entrambi ad Amici24, che a quanto pare al momento è arrivata solo per L'Orella Nessun'altra novità è spuntata in merito al nuovo team di ballo e di canto, Maria De Filippi di sicuro confermerà oltre a L'Orella, anche Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, i veterani del programma Quale sarà il destino degli altri? Il programma è attesissimo e ogni anno, grazie al successo raggiunto, è sempre più bello assistere alla nascita e alla crescita di meravigliosi talenti Da Elodie ad Annalisa a Emma e a tantissime altre, Amici offre la possibilità ai veri artisti, di poter concretizzare un sogno Grazie a tutti Grazie a tutti